Ciao a tutti! Tenero, premuroso, vivace, fedele, il cane ha trovato una propria collocazione nella vita dell'uomo centinaia di migliaia di anni fa, per non uscirne più. Dall'alba della civiltà, i legami intessuti tra l'uomo e il cane sono unici e non smettono di stringersi. Tra l'altro è l'unico animale che ha potuto veramente essere addomesticato e che è rimasto un compagno dell'uomo. Che tu sia un amante del mondo canino o che tu desideri scoprire nuove razze, in questo video ti presenteremo le 5 razze canine più belle che ti piacerebbe avere. Spesso confuso con l'aski siberiano, l'alaskan malamute si distingue per una ossatura più forte e una muscolatura più sviluppata, ma ancor meno focoso rispetto a quest'ultimo. L'alaskan malamute è una delle razze canine da slitta nordica più antiche e si distingue per la sua coda spinta in alto e folta. Il fatto che sia a testa alta e orgoglioso accentua la sua eleganza naturale. In via d'estinzione è stato importato negli Stati Uniti, in cui la razza si è sviluppata. Si è adattato alle condizioni climatiche difficili e può sopportare le condizioni invernali rigide a meraviglia, ma fa più fatica con le alte temperature. Inizialmente il nome malamute deriva da quello delle malamute, degli indiani del nord-ovest dell'Alaska che utilizzavano questo cane per i loro spostamenti come per andare a caccia o a pescare. Al giorno d'oggi l'alaskan malamute è diventato un animale da compagnia affettuoso e devoto anche se conserva un forte carattere. Intelligente e calmo, il suo addestramento risulta abbastanza facile. L'alaskan malamute è un buonissimo esemplare dall'aspetto nordico, robusto, resistente, affettuoso come un gatto e dotato di una salute di ferro. Ovviamente il malamute è un cane molto versatile e può essere molto felice come cane da compagnia, purché abbia un padrone attivo che pratica molte attività all'aperto. Tuttavia non bisogna dimenticare che il malamute dell'Alaska sia anche un cane indipendente che crede di dominare tutto e tutti nel suo habitat. Quindi bisogna che il suo padrone sia fermo e costante con lui, altrimenti il cane rischia di diventare difficile da controllare. A differenza di ciò che possiamo immaginare a prima vista, non si tratta di una nuova razza canina. Anzi, il ciao ciao panda non proviene da un incrocio tra un panda e un ciao ciao. E per quanto impressionante possa essere la somiglianza osservata tra un cucciolo di panda e il ciao ciao panda, questi ultimi sono soltanto cani di razza ciao ciao truccati per somigliare a questi orsi di bianchi e neri. L'iniziativa di truccare i propri cani per farli somigliare a cuccioli di panda nasce dal gestore di un bar per animali da compagnia in Cina. Mentre i panda vivono in principio in riserve naturali o negli zoo, un breve video diffuso su internet sul sito di informazioni locali Hong Ching News, mostrante dei visitatori mentre accarezzano questi cani panda, non ha mancato di provocare un'accesa polemica sui media e tra i vari operatori su scala mondiale, e paradossalmente a livello locale. Incoraggiato dal suo successo, il gestore del bar sceglie allora di proseguire nel suo slancio e propone ormai dei servizi di colorazione per animali da compagnia. In un comunicato pubblicato dal bar sui social network cinese Weibo e ripreso dal quotidiano britannico The Guardian, il gestore del bar indica che ha rifatto il look dei suoi cani all'immagine di un panda per distinguersi nel molto competitivo mercato locale dei bar di animali. Importato dal Giappone, il colorante nero utilizzato per far somigliare i cani ciao ciao a panda è senza nessun impatto negativo sulla loro salute o il loro benessere, ed è in ogni caso l'argomento avanzato dal gestore del bar per difendersi. La dichiarazione di un veterinario, Li Dai Bing, pubblicata sul sito di informazioni Hong Ching News, va contro il fatto che sia una colorazione sana. Secondo quest'ultimo, una colorazione potrebbe danneggiare il pelo e la pelle di queste adorabili palle di pelo a quattro zampe, ma in Cina ai fan dei cani colorati non importa e si precipitano regolarmente da questo gestore di bar per avere il loro cagnolino personalizzato. Al di là del suo aspetto da orsacchiotto, il bovaro del Bernese è famoso per essere un cane relativamente intelligente ed energico. Una delle sue attrattive da cane di famiglia è il suo carattere mite, il che lo rende un animale da compagnia apprezzato, in particolare per i bambini e le persone anziane. È riconoscibile per il suo bel pelo tricolore, nero, bianco e rosso. Delle macchie rosse sono presenti sopra i suoi occhi, sulle sue ganci e sulle sue zampe. Come indica il suo nome, questa razza molto antica proviene dalla Svizzera, più precisamente dal cantone di Berna. Inizialmente era preferibilmente utilizzato come cane da traino nelle prealpi a sud di Berna, da cui deriva il suo appellativo di cavallo del povero. Aveva anche la funzione accessoria di controllare le fattorie. Il suo pelo ha una capacità autopulente, ecco perché un bagno all'anno basta per non distruggere le caratteristiche del suo pelo. In periodo di muta, delle spazzolature quotidiane sono invece necessarie. Nonostante la sua capacità d'adattamento a tutti i tipi di luoghi, il bovaro del Bernese ha bisogno di spazio, quindi non è un cane da appartamento. Senza contare le sue passeggiate igieniche, apprezza molto particolarmente le attività all'aperto calme, come ad esempio il trekking. Molto attaccato al suo padrone, il bovaro del Bernese non apprezza di esserne separato. Il bovaro del Bernese è soggetto a patologie legate alla sua grandissima dimensione, come la displasia dell'anca e la sindrome della torsione gastrica. È anche molto esposto al rischio di cancro e la sua aspettativa di vita è inferiore alla maggior parte delle altre razze. Lo scelti è un cagnolino da lavoro di una grande bellezza, in nessun modo pesante né maleducato. Il suo pelo da muso è corto, ma è lungo e dritto sul resto del corpo e particolarmente a livello della criniera, del gozzo e delle membra. Lo Sheetland Sheepdog, soprannominato affettuosamente scelti, è un cagnolino armonioso dal corpo grazioso. È anche intelligente, attivo e pieno di vivacità. Fa parte dei compagni a quattro zampe più semplici da educare, ma può tuttavia mostrarsi testardo a causa della sua sensibilità. Al pari di numerosi cani da pastore, lo scelti ha una tendenza naturale a condurre il gregge e può cercare di raggruppare tutto ciò che si muove, dai bambini piccoli fino alle auto. Di natura protettiva, lo scelti può mostrarsi diffidente nei confronti degli estranei della sua famiglia e le ospita abbaiando in abbondanza, il che lo rende una buona guardia. Una socializzazione precoce è in grado di ridurre le tendenze di timidezza inappropriata e i segni di aggressività in presenza di estranei. Lo scelti, o dal suo nome completo lo Sheetland Sheepdog, era in precedenza famoso con il nome di Colli delle Sheetland. Questo cane proviene dalle isole settentrionali dell'arcipelago britannico, le isole Sheetland. Affettuoso e sempre pronto a piacere è anche un animale da compagnia adorabile. Tra l'altro non è un caso se è passato spesso a torto per un piccolo Colli a pelo lungo. Benché si trattasse di due razze distinte, la loro somiglianza è molto importante. Lo scelti è un cane atletico e solitamente in buona salute, invece suo cugino, il Colli, ha una tendenza a sviluppare delle malattie, specialmente una forma di malformazione dovuta alla sindrome Merle. Lo sviluppo di questa patologia ereditaria, tradotta, tra le altre cose, da anomalie dello sviluppo e dei disturbi dell'udito può rischiare di complicare la sua presa a carico. Il Whippet è un cane dall'aspetto atletico che dà l'impressione di essere elegante e vigoroso. Si distingue anche per il suo carattere equilibrato e per la sua discrezione. La sua fisionomia si distingue dalla presenza di una curvatura a livello del rene. Il Whippet è accomodante a causa della sua calma e il suo adattamento a qualsiasi stile di vita. È anche fedele e attaccato ai suoi padroni. Se ha delle origini molto antiche, il Whippet è una razza relativamente giovane. E ha ragione, è stata riconosciuta soltanto nel 1900. Inoltre, la sensibilità non è il suo forte. Tuttavia può assolutamente intendersi con i bambini, ma non è un giocatore incallito. Nonostante la sua natura dinamica, il Whippet si adatta perfettamente alla vita in appartamento o in casa. Mi piace stare sia in città che in campagna. La cosa essenziale è quella che possa correre regolarmente e godersi passeggiate frequenti. Tuttavia, al di là della sua forza equilibrata, la sua muscolatura potente e le sue linee graziose, il Whippet ha particolarità comportamentali e, come tutti gli altri cani, detesta essere lasciato da solo e, se lo è, esprime la sua insoddisfazione in vari modi particolari, mentre il suo bisogno di attenzione non è forte. Il Whippet è anche un gourmet e è in grado di rifiutare categoricamente il cibo se ciò che gli viene proposto non gli piace. Dal punto di vista della salute, non sviluppa patologie specifiche, ma dopo le corse bisognerà controllare le eventuali infortune ai ossei, articolari o muscolari. Slanciato ed elegante, il Whippet è un cane fatto per le corse, il che non gli impedisce di essere anche unanimamente riconosciuto come un compagno eccellente. Abbaia poco, è un cane che preferisce ascoltare piuttosto che esprimersi, atteggiamento che si osserva molto presto quando si tenta di insegnarli degli ordini. Il Samoyedo è un cane di dimensione media di tipo Spitz. La sensazione di sorriso proveniente dal Samoyedo risulta dalla combinazione della forma e della posizione dell'occhio e delle labbra, leggermente all'insù. Proveniente dal mondo dei cani, delle slitte, è il primo cane nordico davvero famoso. Apprezzato per la sua resistenza e la sua energia illimitata, il Samoyedo è stato utilizzato come cane da slitta delle tribù Samoyedi della Russia settentrionale e della Siberia. Questo cane bianco non è di natura possessivo come un cane da guardia, non testimonia un'aggressività nei confronti degli estranei e non rifiuta mai una carezza. E anche se non è una buona guardia, è molto vivace e conserva la sua giovialità fino a un'età avanzata. Se il suo pelo abbondante bianco e la sua bellezza consentono di situare con certezza le sue origini, invece nascondono i rigori di un carattere testardo quanto obbediente. Impossibile avere una cooperazione spontanea e ottimale di questa razza quando il clima di fiducia con il suo padrone viene a mancare. E che sia con gli esseri umani o i suoi consimili, il Samoyedo tende ad esprimersi abbaiando. Mite e affettuoso si distingue per il suo amore pronunciato verso i bambini. Famoso per non presentare nessuna patologia ereditaria, il Samoyedo si ammala molto raramente e possiede una buona aspettativa di vita. Tuttavia è meglio stare attenti ai disturbi biomeccanici complessi che colpiscono l'articolazione dell'anca, come la displasia dell'anca e moderare quindi la sua attività fisica per i primi anni della sua vita. La noia è il peggior nemico di questo cane molto dinamico, sportivo e avido di attività e di conseguenza le sue condizioni di vita sarebbero definite come ideali soltanto se i suoi bisogni di consumo fisico, olfattivo e sociale sono correttamente soddisfatti. Ma semplici passeggiate quotidiane sono lontane nel bastare a favorire il suo equilibrio e il suo benessere. A causa del suo doppio pelo abbondante, il Samoyedo dà prova di una grande resistenza, il che gli consente di supportare benissimo il clima rigido dell'inverno, ma ampiamente meno le alte temperature. Erano le razze canine più incredibili del mondo. Quale ti ha stupito di più? Faccelo sapere nei commenti. Grazie e a presto! Ciao!